Sono tre persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza, di 1000 euro a testa, così mi ha detto la dirigente dei servizi sociali. Un'affermazione che non corrisponde al vero replicano i tre senza tetto barlettani che da più di 12 anni vivono riparati in tende di fortuna sulla spiaggia di Ponente o in altri ricoveri occasionali. Il sindaco Cannito si era interessato della loro vicenda, sostenendo che fosse nota da tempo i servizi sociali del comune e che le difficoltà nel trovare una soluzione ai loro bisogni fossero da attribuire più alla volontà dei tre senza tetto di condurre una vita fuori dalle regole che a reali necessità economiche. Accuse che i tre amici indigenti rispediscono al mittente chiarendo alcuni dettagli della loro vita passata e i motivi per cui oggi si ritrovano in queste condizioni. Antonio Cuore, 55 anni, non fa mistero dei suoi problemi con la giustizia. Più di metà della sua esistenza racconta è trascossa tra le mura di un carcere. Da quando ha terminato di pagare per i suoi sbagli non ha avuto più occasione di reintegrarsi nella società. Cardiopatico e plurinfartuato sopravvive da sei mesi con il reddito di cittadinanza per un importo di 375 euro a cui riesce a sommare una pensione di invalidità di 295 euro. Anche i danneggiamenti alla Caritas che il sindaco attribuisce alla sua persona a cuore chiarisce che sono in realtà stati causati da un altro soggetto, ospite della struttura di accoglienza. Raffaele Chiariello, 62 anni, spiega come la sua vita sia precipitata nel 2008 dopo aver perso il lavoro ed essersi separato dalla moglie. Da nove mesi percepisce il reddito di cittadinanza pari a 500 euro, non nasconde di aver fatto anche il parcheggiatore abusivo per guadagnare i soldi necessari alla sopravvivenza. Non è molto diversa la situazione di Antonio Rotunno, 55 anni, padre separato dal 2004, da 16 anni senza fissa dimora. Anche lui percepisce da nove mesi il reddito di cittadinanza pari a 500 euro. Il sindaco lo accusa di rifiutare la disponibilità del padre ad accoglierlo nella sua casa, ma Rotunno ritiene questa soluzione impraticabile per ragioni di natura personale. Tre storie diverse accomunate da un'unica richiesta, quella di una casa che nessuno vuole concedergli infitto. Il reddito di cittadinanza, che non corrisponde certo ai 1000 euro dichiarati dal sindaco, non è garanzia sufficiente di solvibilità. Se veramente vuole aiutarci, dicono i tre senza tetto, il primo cittadino si faccia garante di un contratto di locazione, o si impegni insieme alle altre istituzioni per rilanciare l'edilizia popolare e renderla più accessibile ai poveri della comunità. Nessuno, proseguono, vuole vivere in queste condizioni o ricorrere all'aiuto della Caritas, come è avvenuto in tutti questi anni. L'invito finale dei tre senza tetto, protocollato persino al comune di Barletta, è ad un confronto pubblico con lo stesso sindaco, la Caritas e tutti i soggetti interessati a promuovere una rete di accoglienza sul territorio. Un incontro che serva a chiarire le rispettive posizioni e quali azioni mettere in campo per una prova di reintegro nella società dei tre amici senza casa.